Io ho sempre pensato alla scrittura come a un corpo a corpo con la morte. C'è un rapporto strettissimo tra la sofferenza e la scrittura. Direi che quasi non si può scrivere senza una grande sofferenza dietro. La sofferenza è il lievito della scrittura, di una scrittura che vale a ricercare la profondità. Ed è anche una catarsi della sofferenza della scrittura, nel senso che fai sempre un passo avanti nella liberazione del dolore. Ma è proprio questo dolore che ti permette di entrare in profondità nella vita e di andare nelle pieghe più nascoste, di illuminare appunto il buio. Poi mi vado e porto al cuore. Dicevo, il cuore è come la terra, ha sempre un lato in ombra. La terra ha sempre un lato in ombra, a parte due notti, a parte due giorni. Il nostro cuore è ugualmente sempre in ombra. Scrivere è sempre andare alla ricerca di questa ombra. e se non si ha una profonda percezione del dolore è difficilissimo riuscire ad entrare nell'ombra.